Il tastino per correre Che cavolini Spacca tutto E ben ritrovati ragazzi Sono i vostri Mino e Mina E oggi siamo qua purtroppo senza webcam Ragazzi non serve in questi momenti Perché diciamo siamo un po' stanchi Quindi anche in faccia siamo brutti da vedere No perché siamo bellissimi Siamo bellissimi Siamo molto belli E ragazzi ci siamo spostati Eravamo nel primo episodio tutti laggiù Scusami Mi scusi signora Eravamo tutti Perché non va sotto Perché è mezzo blocco Comunque diciamo eravamo tutti nell'isola centrale Ma diciamo che I tempi di tutti sono diversi Quindi tipo se io posso questo giorno Gli altri non possono Scusate E quindi abbiamo deciso di separarci Noi siamo venuti in un'isola Abbiamo fatto un ponte che collega Quella centrale Siamo tritti ragazzi Siamo dritti Siamo in quell'arancione Come vedete che è proprio davanti Quindi in mezzo ci sono Alley Dark e Blaze E qui ci siamo noi Perché nel mezzo ci sono loro Perché così Ma non va bene Perché non va bene Perché il server è nostro Va bene Allora domani verrete bannati E cosa facciamo Cosa facciamo Niente siamo spotati qua Con le cose che avevamo Abbiamo fatto un party tutto nostro Quindi le nostre quest Cioè andiamo avanti Per il conto nostro E abbiamo già fatto la pozza D'accompita Sperando che vengano Un po' di semi Perché ragazzi stiamo morendo di fame Ah già le rotte in flash Rotte in flash Vedete dove Eccole Sì Sì ragazzi Sì 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 Che non sono più rotte E dammi Non sono più rotte in flash Dammi qualche luna a me No Tutte mie Tutte mie Dai Tutte mie Ruba 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 rubi Comunque ci siamo sistemati qua dentro E oggi ritorniamo a fare Eh sì Perché Ok Ok niente Perfetto Allora Questo abbiamo fatto Ah ancora devo farlo Io l'ho già Degli Climato Ma perché Non lo so Ma l'avevo già fatto Forse secondo te l'avevi fatto Ma Boh vabbè Vabbè Ah forse Forse devi farlo ogni Cioè Ogni volta che uccidi Ah ok L'altro ti da da mangiare Perfetto a posto Ok Siamo rimasti qua ragazzi Bisogna fare il martello L'hanno fatto Però bisogna rifarlo Come si fa il martello Non puoi fare il martello Finché non hai La tinker Eccolo Ah vabbè Più semplice Più semplice Ma ce l'hai già fatto Dove Perché mi dà 100% Perché qualcuno l'aveva già fatto Ma noi no Comunque l'abbiamo fatto Aspetta Armi e armature Dove Dove è quella vuota Questa Attrezzi A posto Da Lì dentro E stai lì Mi raccomando Io preparo la lana Per fare i letti Ok Allora Allora Sì è giusto Cos'è che vi dite Che bisogna fare Il OH Ok 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 Cos'è questo? Eh lo devi fare con i fili Sì Ti ha Ma quante ragnatele Mi faccio io Perché siccome non ce l'abbiamo Tieni Ce l'ho già fatta Ah ok Ho già fatto lei Ho già fatto lei Ho già fatto lei Uno, due, uno, due Senti posso craftare due letti Tanto lo sanno tutti Questa qui ragazzi C'era messa accanto a una cesta E mi viene anche queste cose Con queste belline Molto belle Molto utile Perché tu puoi lasciare dentro la roba Esattamente Esattamente Eccolo qua E tu guarda Guarda Apri la crafting Apri la crafting Vedi io che crafto Sì Sto vedendo Molto bello Vai Due lettini fatti Interessante Interesante Ok Metto Metto qua Dove metto Manca la casa Ah già Qui volevo levare questo Perché questa cosa qui È bruttissima No Chi è Ah vedete ragazzi Laggiù c'è gente Ora vado laggiù Con la padella Inizio a fare casino Guardate Io ho solo una ascia Eh Io ho solo l'ascia Tre Oh Ma quanti sono Vai vai Pertano vengo io Vengo io Vengo io Vengo a divertirmi Vengo a divertirmi Fai divertire un po' anche me Bang Ti serve il cibo Come è bello il rumore Bang Ciao Un limoncino Via 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 Bang 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 Ok gripe Ma che puoi fare giù ora Ciao Esplodi esplodi Hai bisogno di una mano Bang Via 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 No 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 Forse è pazzissimo Ti ha distrutto il ponte No guarda No 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 Mi sta girando come fuori lui Aiuto Ce l'ho sobbitata troppo alta Via 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 Aspetta Aspetta vado io sopra Ferma Dove sei Ma qui non lo fare esplodere perfetto fatta vai prendi tutto devi decidere cosa prendi si prende un cuore o si prende la stone la stone axe no queste te le dà tutte e due no te le dà tutte e due pick one ok sotto quelli sono i semi normali ma io direi carote e se no cotton seed o il sugar cane carne da zucchero cos'è che ci serve di più il cotton seed uno si prende le carote e le carne da zucchero uno prende la carota e uno prende le carne da zucchero infatti dicevo tutte e due nel senso che le altre due non si usano infatti io prendo le carne da zucchero ok oh ho scelto ah no guarda sopra your first stone dobbiamo fare la nostra prima si come si fa clicca su your first stone sotto eh si no non mi direi dove l'hai posato il sieve non l'ho posato e allora posalo io prendo la terra ok ci vorrà tanta terra guarda tu metti la terra qua dentro e la grattugi 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 cosa ti ha droppato stone quindi 4 ecco mettila in 4 nell'inventario insomma nel uh e ti dà la cobblestone yes a regola adesso abbiamo fatto tutto claim reward io prendo la cana da zucchero ok carota carota tiri 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 aia perchè sono mi hanno colpito sto per morire chi è che mi colpisce levati 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 ma chi è ma c'è il cecchino laggiù guardalo 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 eh stavo per cadere di sotto ce lo levo ce lo levo vieni guarda guardalo 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 siiii non ti ha droppato dove andrò no una ce l'ho una non so se l'hai vista la ce l'abbiamo si l'ho vista ce l'avevi occhio al cecchino via accidenti allora 1.6.4 che non c'è il tastino per correre e sono gli attrezzi boh non lo so ecco c'era un cartello allora che bisogna fare ora oh l'abbiamo completata cosa quindi il 7 in one day ah ogni tanto quindi ogni tanto vabbè ok vabbè è un arricatable quest unlocks one quest cos'è che ti ha detto che ha detto non lo so no però questo qui no ok aspetta no fermi tutti allora se prendi un pesce ti da ok ti da queste cose qui e va bene cobblestone gravel com'è che si fa la gravel è sempre si è tacciando la la terra la terra e la sand queste cose qui yes a posto allora bisogna fare la terra com'è che si fa la terra con il sapling dentro l'acqua dentro il bar quindi bisogna scavare qui poche parole si scavare scusate cosa dico tagliare allora ragazzi l'aria affrescata il pesciolino e quindi possiamo eccola qua la numero uno io prendo la tre attenzione ragazzi attenzione attenzione boom che ti è uscito? no so good reward non è un bel regalo scusate un foglio di carta respirazione tre non l'ho capita ah quel perdi tipo non si è stato fortunato io ho trovato è quello che voleva dirmi non sono stato fortunato comunque una parfalla che cavolini allora siamo arrivati al punto che l'aria ha spaccato col martello la cobblestone la cobblestone si mette qua dentro e te lo devono via ti deve dare sabbia no a regola dovresti continuare a farlo col martello non ti ha droppato nulla no allora dovremmo fare dell'altra terra ok ci riproviamo vai allora due di cobblestone no ah due spacco io vai 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 spacca spacca io intanto mangi no l'hai presa te mi sa ah no l'ho presa io è grave ora lo devi rimettere a terra si e poi la rispacchi e ti da la sabbia ok se gratti la sabbia aspetta ma ah ma quindi ce l'abbiamo quindi dovete dare la dust si si dovrebbe dare la dust guarda un po' dust perfetto se gratti la dust vabbè intanto claim insomma riguardiamo cosa facciamo reward bag cioè nel senso a caso o un cuore si perchè il cuore fa cagare è una truffa io ho preso la seconda io la prima via ok uffo ma io non sento la musichina te non senti muschina eh vabbè uh finalmente ha un piccone anche io ok la dust si ma apriamo la borsetta o l'apriamo alla fine no no apriamola ora perchè si ti da qualcosa di buono speriamo via un po' di suspense un libro ti ho dato e a me un golden lott in 3 insomma mi ho dato il bastoncino di d'oro ah vuoi vedere guarda uh bello allora io direi con quello vai a spaccare un po' di foglie laggiù vai no ma devi farmi la piattaforma più grande si io la vado a fartela prendo ah no ce l'ho già perchè cade tutto oddio oddio con ca vai con ca ho visto si ho visto infatti ho visto con calma con calma spacca tutto oh ma sei già rotta come sei già rotta eh si via è una truffa ciao saluta grazie facciamo facciamo iron ore gravel e come si fa eh questa ecco la dust allora quando hai la dust eh vieni qua dove c'è l'oxio oh che casino la dust la metti dentro alla loaxie gratti 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 tipo a me mi ha dato un polveresco per ore e del certus quartz ok a regola per il ferro ti ha dato la redstone e e anche certus quartz dust ok a regola per il ferro dovremmo grattare la grave mi sembra ma prima non ho dato niente ne proviamo posso dare qualcosa si infatti guarda te lo droppo ah ma ti da questi cosini qua ma il primo non è venuto ne fuori niente eh evidente nelle volte aspettate prendiamo un po' si può già fare no bisogna cuocerla ci ne vogliono quattro ok di quelli che tu hai uno no di quel cosino che hai te uno broken copper ah ok ne devi mettere a quattro ti da il blocco ah ok va bene capito abbiamo anche il copper perfetto quindi bisogna dai dai andiamo avanti vai 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 non mi sa un'altra io che ti ha dato eeeh mi ha dato molta roba ci manca sempre uno di ferro uno uno manca uno senti tieni ti do anche questa roba qua che era il mio vuoi sapere un'altra cosa eh allora vedi qui abbiamo l'acqua ehm si nel battle se io ci metto una sabbia cosa diventa agilla bravo oh perché non la fa mettere ah ah si sta facendo notte che bello dai dai dammi 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 oro è oro è dato un lapislato e mentre io e Ila andiamo a dormire perché sennò laggiù si riempie troppo vi diamo appuntamento al prossimo episodio da mine e mine dove c'è tutto la linea allo studio ciao ragazzi faremo la lava nel prossimo episodio la lava la lava come lava dai iscriviti 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 al prossimo episodio Grazie a tutti.